Nella settimana in cui ricorre l'anniversario del sisma del 2009, si invita ad indossare il fiore della memoria, simbolo di speranza e vita che rinasce. È il fiore dello zafferano, il croco tanto caro alla terra d'Abruzzo, tratto dell'identità che racconta l'unicità del popolo del territorio aquilano, la sua preziosità e la resistenza. Il fiore si può ritirare gratuitamente come spilla nelle tabaccherie della città dell'Aquila, associate fit, che spongono la locandina informativa. Questo fiore che è un simbolo del nostro territorio, il simbolo della fatica della nostra gente, ma è anche il simbolo della rinascita, della natura che rigenera. Lo diamo idealmente a tutti i cittadini aquilani e del cratere, lo distribuiremo in maniera capillare. Chiediamo a tutti di indossarlo in quella settimana per ricordare non soltanto le vittime del sisma, ma anche tutti coloro che ci hanno lasciato a causa della pandemia e a coloro che perdono la vita in queste ore a causa dei conflitti che sono in giro per il mondo. Abbiamo preso ad esempio quello a noi più vicino, quello seguito all'aggressione dell'Ucraina, per cui chiederemo ad una delegazione, ad un rappresentante della delegazione ucraina che ospitiamo in città, di accendere il bracere della memoria nella notte fra il 5 e il 6 di aprile. Qual è lo spirito con cui si approccia e ci si mette questo fiore sul Bavero, Sindaco? Lo spirito è quello di una grande solidarietà di questo territorio che si ritrova unito nei momenti importanti. Noi non possiamo fare a meno di ricordare le vittime del terremoto e tutte quelle vittime che sono cadute anche dopo il terremoto, che in qualche modo sono state influenzate da questo evento così negativo. È un momento in cui tutti quanti noi, siamo tanti, siamo 57 sindaci, ci ritroviamo uniti facendo cadere tutte le nostre divergenze e appartenenze politiche in onore di quelle persone che non ci sono più. Ci uniamo al dolore, al ricordo, ma come detto il Sindaco dell'Aquila anche alla voglia di rinascita che non è partita dal 6 aprile 2009 ma dobbiamo adesso, soprattutto a 13 anni di distanza, dobbiamo raccogliere, fare nostra e dare alle future generazioni.